Fa discutere la scelta del sindaco di Avellino, Gianluca Festa, di formare un gruppo di lavoro composto da esperti esterni al Comune e al Consiglio Comunale, ma anche alle associazioni di categoria del territorio per far ripartire la città nella fase post-Covid. Un Dream Team, come lui stesso lo ha definito, che però, come per altre vicende, decisioni e scelte, non passa per un confronto con l'opposizione, ancora una volta ignorata. Per il referente del Movimento 5 Stelle in Assisi, Nando Piccariello, va bene ascoltare pareri autorevoli, ma su quello che è il tema fondamentale per il futuro socio-economico del capologo va intavolata una discussione con la minoranza consigliare. Il sindaco sembra in questa fase attento all'ascolto di terze persone, che avrebbero a suo parere competenze specifiche e quindi che sarebbero in grado di supportare l'azione amministrativa. Devo ammettere che questo atteggiamento mi sorprende. Festa non ha certo usato lo stesso parametro di ascolto verso le opposizioni, che hanno un ruolo istituzionale che va garantito sempre e a maggior ragione in una situazione come quella che stiamo vivendo. Aspetto di conoscere nel dettaglio i compiti di questo comitato in un confronto istituzionale e non attraverso le dirette Facebook, come Festa ci ha abituato purtroppo. Basta con le scelte in solitudine, per Piccariello è decisivo in questa fase il rispetto dei ruoli così come un'armonizzazione dei percorsi che non possono prevedere modelli di reazione diversa per ogni città. In questi giorni abbiamo purtroppo assistito ad azioni e iniziative fuori da un contesto politico nazionale. Occorre coordinamento e ogni azione non deve essere il frutto di una scelta autonoma, non deve esserci un modello per ogni città, ma un'azione coordinata e guidata con sapienza e rispetto istituzionale.